Zia, per caso ho assunto qualche droga? No! Io sì! Ho bevuto un bicchiere d'acqua! Eh, l'acqua fa la ruggine, beva la vodka! Mi dica che devo fare! Quindi lei in casa non ha stupefacenti? Certo che no! No, perché io non ho più un cazzo, volevo chiederle se... No!